Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Come suddividere un libro da 400 pagine per studiarlo tutto e soprattutto bene. Oggi voglio farti capire attraverso una dimostrazione grafica, quindi puntando proprio sull'aspetto visivo, come dovresti gestire una certa quantità di materiale, che io per comodità ho definito libro da 400 pagine. Potrebbero essere due libri da 200 pagine o una serie di slide fino ad arrivare appunto a questa quantità. In sostanza, come devi gestire una buona quantità di materiale? 400 pagine non sono poche, a prescindere dal tipo di materiale stesso, libri, slide, dispense o qualunque cosa tu debba studiare. Voglio concentrarmi su qual è il criterio, il principio di base che devi assolutamente seguire se vuoi fare in modo di capire e adattare quello che vado a spiegarti a qualunque circostanza e al tempo stesso poi da questo punto saprai esattamente adattarlo anche a quale possono essere delle situazioni future che dovrai gestire da studente o da studentessa a livello universitario. Quindi partiamo dal criterio di base e poi ti faccio vedere come adattare alcuni esempi. Vediamo anzitutto qual è il criterio che devi considerare. Ti invito a non guardare intanto lo schema in basso che ti andrò a spiegare fra qualche istante. La prima cosa su cui devi concentrarti è il sottotitolo. Infatti, come vedi, su Divide un libro di 400 pagine si basa su una domanda che devi porre a te stesso o a te stessa. Ed è la seguente. Qual è il ritmo di studio che posso sostenere e mantenere per l'intera durata di studio? Quindi, se hai scelto, per esempio, di studiare queste 400 pagine in 10 giorni, qual è il ritmo che ti permette di studiarle in questi 10 giorni? Farne appunto 40 al giorno. Questo è quello che vedi un po' più in basso, ma lo vediamo adesso più in dettaglio. Questo ritmo puoi mantenerlo oppure no? Questa è la questione principale. Perché se imposti un obiettivo che è completamente fuori da quello che puoi o vuoi fare in questo momento, non ha nemmeno senso impostarlo. Quindi cerchiamo di capire quali sono le varie casistiche che potresti incontrare o scegliere in ogni caso. Vediamo questo primo caso. Abbiamo queste 400 pagine. Ovviamente possono essere qualcosina in più, qualcosa in meno. Non stiamo qui a guardare il singolo numero della singola pagina. Quindi abbiamo queste 400 pagine. Come vedi, sono divise in 10 gruppi da 40 pagine. E ogni gruppo da 40, quindi per esempio il primo a sinistra, è suddiviso in due momenti, potremmo dire. Vedi, infatti, la freccia verso il basso ti porta a vedere il 20 pagine e sotto ancora altre 20 pagine. Perché ho fatto quest'ulteriore divisione che poi, come puoi notare, corrisponde alla colonna del primo giorno di studio di queste 400 pagine? Perché devi studiare in due momenti diversi. Io ti consiglio sempre di fare questo. Non studiare sempre, tutti in una volta potremmo dire ecco. La cosa importante invece, secondo me, è cercare di dilazionare lo sforzo che devi fare, l'impegno che ti serve. Di conseguenza, per esempio, studiare 20 pagine al mattino e 20 pagine al pomeriggio. O comunque, questo gestiscilo in base alle tue necessità, ai tuoi impegni, a quello che devi fare per lo studio. La cosa importante è evitare di dover affrontare questo malloppo di 40 pagine ogni giorno, tutte in una volta. Dilazionarlo dà molto di più la sensazione di poter controllare realmente il materiale e anche fare un po' una pausa, pranzo o comunque momenti in cui stacchi rispetto allo studio. È essenziale. In breve, questo è il ritmo. Studiare 20 pagine al mattino e 20 al pomeriggio, quindi in totale 40 pagine per il primo giorno. Ripeti questo per il numero totale di giorni e sei arrivato o arrivata all'obiettivo finale di aver studiato 400 pagine. Questo dilazionare ti permette di studiare tutto in modo controllato e mantenere la qualità nello studio e nell'apprendimento. Raggiungo inoltre un disclaimer. Ovviamente io ho riportato per comodità il primo, il secondo, il terzo, il quarto giorno e così via, ma non per forza devono essere sequenziali. Potresti per esempio scegliere di alternare la preparazione di queste 400 pagine ad altre pagine per un'altra materia o per qualunque altra cosa. Quindi per esempio inizia con il primo giorno, poi ti dedica ad altro, il secondo giorno non deve essere per forza quello dopo, quello successivo, potrebbe essere anche spostato nel tempo. Ovviamente a lungo andare devi sempre tenere d'occhio il tempo totale che hai a disposizione. Non ha senso rimandare se già hai, diciamo, il tempo contato. Quindi se ti piace questo approccio nella spiegazione di tutto quello che riguarda lo studio e la preparazione di esami e materie a livello universitario, posso proporti un metodo di studio che ho utilizzato in prima persona, quindi ho testato prima di tutto su di me e poi riportato all'interno di un videocorso. Puoi trovare il link in descrizione se vuoi andare a dare un'occhiata e all'interno del corso, comunque hai tutto quello che ti interessa attraverso il link, ma ti do qui qualche piccola informazione, vedrai esattamente quali sono le tecniche di studio e quali sono le strategie più efficaci per riuscire a gestire qualunque quantità di materiale all'interno del tempo che hai a disposizione. Quindi questo è essenziale per riuscire ad affrontare l'intero percorso universitario guardando tutte le variabili che sono in gioco, non solo come si legge e poi non sai nemmeno in quanto tempo devi gestire il materiale stesso. Comunque trovi tutte le informazioni che ti possono interessare e servire all'interno del link e quindi nel frattempo voglio dedicarmi a proporti per quello che riguarda il video di oggi un altro esempio. Manteniamoci ovviamente sempre sulle 400 pagine e quello che devi fare non è tanto concentrarti in questo momento su quello che è la parte in basso del grafico, ma guardare sempre al sottotitolo. Come vedi il quesito, la questione è sempre la stessa. Qual è il ritmo di studio che posso sostenere e mantenere per l'intera durata? Nel caso in cui per esempio dieci giorni, per te fossero troppo pochi, possiamo con questo esempio e quindi in queste cose ti faccio concentrare sulla parte bassa di questo grafico, guardare dal primo, secondo, terzo, quarto e così via, sono questi giorni, esattamente come nel grafico di prima, fino al ventesimo. Quindi abbiamo raddoppiato il tempo che dedichiamo allo studio. Di conseguenza cosa vuol dire? Se raddoppiamo il tempo, dobbiamo ogni giorno fare la metà delle cose. Infatti, guardando al 20, il primo 20, che trovi tutto a sinistra con la freccetta, non è più 40, come nel caso di prima, cioè le 40 pagine, ma sono solo 20 pagine che vengono divise 10 e 10. In questo modo, esattamente come abbiamo fatto prima, cioè considerato di dividere lo sforzo durante la giornata, puoi fare 10 pagine al mattino e 10 pagine al pomeriggio. In questo modo avrai sempre portato a termine l'obiettivo giornaliero di aver studiato 20 pagine, ma avrai ovviamente molto meno informazioni da studiare nella singola giornata. Questo ovviamente va ad allungare il periodo di studio. In questo esempio specifico, con dei numeri abbastanza facili da gestire, quindi 400, poi diventano 20 pagine, 10 la mattina, 10 al pomeriggio, arriva molto dalle di 20 giorni. Ovviamente se dovesse cambiare il numero di pagine, un po' di più, un po' di meno, non cambia nulla. L'importante è capire il meccanismo e andare a trovare il ritmo che fa per te. In questo caso, per esempio, studiare 20 pagine al giorno, 10 al mattino e 10 al pomeriggio, potrebbe essere ideale. Sai che ti aspetto un periodo di studio più lungo, ma ogni giorno sarà più facile da gestire. In ogni caso, se hai qualche dubbio, qualche cosiddetta, qualche domanda, puoi farmi sapere. O nella sezione dei commenti, o te verso i link che trovi in descrizione. Io nel frattempo ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua attenzione, per avermi seguito fin qui e ti aspetto con piacere nel video che uscirà domani.